Tutto pronto all'Aquila per la seconda giornata del Seine Azioni Femminile di domenica 12 febbraio allo Stadio Fattori del Capoluogo con inizio alle ore 14. Stamattina c'è stato il Team Run allo stadio a seguire il Capitans Run della Nazionale Irlandese che arriverà questa sera in città. Già dalla mattina di domenica all'esterno dello stadio ci saranno diversi stand di street food e animazione. Via Legranzasso diventerà così un villaggio per poter pranzare prima del match e vivere il terzo tempo azzurro dopo l'incontro con le atlete. I biglietti sono del costo di 5 euro assolutamente simbolico per i settori tribuna e distinti. Sono disponibili anche sul circuito live ticket.it o al botteghino del Fattori dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 della giornata di oggi mentre dalle 10 di domenica. L'ingresso del settore distinti sarà invece gratuito per i giovani under 16. E sempre domenica mentre allo Stadio Fattori si festeggerà la Nazionale in mattinata il campo sportivo di Poggio Picenza e sede della squadra femminile di rugby Le Belvenero Verdi ci sarà la Coppa Italia femminile Seven. Mentre nei campi di Centicolella saranno protagonisti le giovani under 16 del rugby.